La domandona di questa settimana è geografia. Madonna, sono rimandata. Allora, Francia. Francia, Svizzera, Austria. Slovenia, Slovenia, Slovenia. Quante sono? No, che c'è? Francia, Svizzera, Austria, Slovenia. Pure le mari, no? No, c'è cina. Io vi dico che è la risposta esatta. Però ci possiamo aggiungere pure qualcosa interna e completiamo in bellezza. Interna? Quindi San Marino? San Marino è stato della chiesa. Allora, ragazzi. Svizzera, Austria, Francia e Slovenia? Scusa definitiva? Slovenia? Scusa, Slovenia. La Slovenia è sicura al centro. La Francia pure. La Francia pure col Piemonte. Però la frutta è... Poi, che abbiamo? Abbiamo il Canton Ticino che fa parte del... Sì, quindi quella. L'Austria per forza è il Cereccio del Sud Tirol. Fine. Justo. E ci mettiamo pure quelli interni. Minchia, aspetta. Quelli interni. Vado uzz? Che è l'ictus e non comprono. Quelli interni. Quelli interni. Quelli interni. Non so. Ma interni cosa? Dentro l'Italia. Ma interni cosa? Cosa vuoi dire? Ah, San Marino è città del Messico, pure io. Città del Messico. Ma ti canto. E tutti e canto. Dai, tutte e due, bravissime. Francia. Spagna. Allora, va bene. La Francia sicuramente. E... L'Austria. E ci siamo. E... Vabbè, io direi anche... Lasistica. Non lo so. Allora, Austria... Aspetta, aspetta. Allora... Austria e Francia, sì. Ah, hai dovuto capire la... Sì, certo. La risposta. Vabbè, se sono convinto così, lo scoprano poi la settimana prima. Allora, la prossima volta... No, 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 dai. Adesso, dimi solo se sono tre, sono due, vero? La Svizzera non c'è. Non è che sia Slovacchia. La Francia. La Germania. Eh, no. No, la Germania, sì. Io sangue. No, la Germania no. Luca, eh, no, che cazzo dici. La Germania. Oh, va bene, se l'ho trova. La Svizzera, Francia. Eh... Paesi bassi. Di tanti aspetti. Paesi bassi. Paesi bassi. Paesi bassi. Giusto, zitta. No, è Belgio. Belgio è Paesi bassi. Io non ho parlato. Allora, quindi, Svizzera. Paesi bassi, Belgio. E il Francia. Queste quattro. Allora, ma la Croazia, da quanto è confina con l'Italia? Non c'è Dubrovnici che è là. Allora, Francia, Svizzera, Austria, Slovenia, San Marino, e due città del Vaticano. Non vi consigliate come è stato? Consideriamo pure le città del Vaticano. Ehm... A te no. No, no, no. Ci sono altri? No, penso di no, sei. Minchia, mancheros. Risposta esatta! Non ridete più, non ridete più. È quella, sì. No, questa donna è fatta per me, io gli ti. Ma che bello. La Francia, la Svizzera, l'Austria. La Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia. Ex-Juvo Slovakia, possiamo dire. C'è il furto. Croazzi, no, che cazzo dici? C'è il furto, e te lo dico io qua, è il furto. È all'interno. San Marino. Eccolo. Basta, abbiamo concluso. Perché? Perché la Croazia è più bassa. Vaticano, dai, non la voglio più. Vaticano, vaticano, vaticano. Questo di Germania c'è? C'è un pezzo di Germania, questo di cazzo. La Germania è sopra, l'Italia è sopra. C'è un pezzo che scende dalla Germania, guarda. Quindi ripetiamo. Francia, Svizzera, Austria. Svizzera, Svizzera, Croazia. La risposta è sbagliata. Cambiamo. Francia, Svizzera, Svizzera, Croazia. Io dico che è Slovenia invece, è un panquette. Slovenia secondo me. Allora, lì per forza. Francia, Svizzera, Austria. Slovenia sicuro, proprio sicuro. No, io dico basta. Se fosse un pezzettino, no, un pezzettino di Germania non è possibile. No, questi peragli, così. No, no, basta, ci mettiamo qua. Ci mettiamo pure quelli interni. Ah, San Marino, San Marino Vaticano. Mico, po' morti! Dici, adesso sicuro. Se lo vogliono? Non lo so. Vabbè, Croazia sicuro. Perché? Perché ci sono stato. Allora, lì c'è la Austria, la Austria, Francia. Lì c'è la Austria, Francia. Slovenia. Penso che se non intendete anche San Marino e Vaticano come stati, dovremmo essere lì. Risposta esatta. Ha detto insieme. Eh, ha detto che... Con quali stati confina l'Italia? Vabbè, Francia. Quindi, poi abbiamo i Jugoslavi. Dovemmo essere la Germania. Germania. Svizzera. Austria. Ma stai, Germania. In Germania che c'è un po' in Germania. C'è l'Austria, ma c'è la Germania della costa. Che dico? No, Germania sì. No! Guarda che c'è. Vabbè, lui dici Slovenia e io dico Croazia. Allora, tu dici Slovenia? Eh, ci ho ripensato. E tu stasi pure. Ma Croazia. Croazia? E tu? Croazia? Guarda, non è bello stasera. La Slovenia, no? La Croazia. No. Francia. Ti dico anche San Marino e Vaticano. Austria. Eh, Austria e Croazia. In Albania fa conoscere. Questa è questa. Ah, vabbè, allora Francia, Svizzera e Austria sono sicure, vabbè. C'è un'altra sicura. Ma fanno scelta. Mani, c'è l'Austria. Sì, sì, sì. Sì? No. Quale che ti... Quale che non ti piace? L'Austria non c'è. Sì, sì, sì. Però diciamo... Ma non le so completamente perché in geografia sono zero. Porca troia, era facile. Che cos'è il fatto? Ah, c'ho svizio. In carità, io non andavo a fare il punto.